Tornare finalmente a vedersi in presenza è molto bello, questa è la prima cosa che bisogna dire e penso lo stiamo dicendo tutti. Credo che ognuno di noi, e sono la prima, avverte anche un livello diverso di stranezza, perché abbiamo perso l'abitudine. Quindi ritrovarsi in tanti e poi in un evento come questo, che è fatto anche di tanti momenti pubblici, mi ha spinto a pensare con quale naturalezza lo facevamo prima e come adesso dobbiamo riscoprirlo. E quindi mi ha fatto pensare che è proprio vero, ogni cosa bisogna rimpararla. Quindi questa bella bicicletta è stata molto piacevole ritrovarla e ci stiamo riprendendo la mano. Ce la caviamo, spero. Eventi come questo ovviamente per prima cosa illuminano il territorio dove hanno luogo. È fondamentale che questi eventi portino le persone a dialogare e per un'industria creativa come quella dell'audiovisivo il dialogo e il networking è l'elemento fondamentale. Ed è fondamentale che questi eventi lo favoriscano e favoriscano un ambiente di scambio dove ci si possa sentire a proprio agio e dove la comunicazione, anche fra paesi diversi soprattutto, possa essere facilitata. Quindi credo che anche per il mercato quest'anno ritrovarsi a pieno regime anche in presenza avranno modo, magari grazie anche ai nostri commenti, di perfezionarlo, perché siamo tutti cambiati dopo questi due anni così particolari.